Musica Ciao ragazzi eccoci qua ritornata con un altro video come vedete non sono da sola ma sono con Chiara che io vi ho messo il link nell'ultimo video che lei qui fa video di tanto non di trucco però è una grande spesa ho pure ciecato e niente insieme abbiamo fatto l'ordine maquillaria e adesso vedete qua c'è tutto impacchettato lo spacchettiamo insieme vai non fare guai non tagliare niente vai bucatutto vai ecco qua l'ordine è stato spedito sabato è arrivato oggi che è giovedì quindi quattro giorni lavorativi super veloci e vedete la spagna migliore grande maquillaria vai ha chiestato molto bene devo dire abbastanza è un sito molto serio per dirvi la verità io la prima volta che lo faccio io ho già ordinato diciamo in passato sono trovata sempre molto molto bene ma qui va forse abbastanza ecco qua finalmente ce l'abbiamo fatta poca roba ok allora puoi dire tu prima quello che ho preso io la terra di The Balm famosissima stupenda bellissima veramente dai la apriamo insieme diciamo che vai mentre apre eccola qua fantastico lei principalmente ha fatto questo ordine per questa infatti abbiamo dovuto aspettare che rientrasse in assortimento era sold out perché non c'era io furba tu non lo sai mi sono messa a dire ditemi quando arriva mi hanno mandato l'email appena è stata rifarnita e noi il giorno dopo subito rifiniva perché va a ruba e lei l'ha presa wow stupenda si vede bene sì sì il colore un po' più scura un po' più scuro stiamo citando col computer non è che è tanto affidabile però hai delle mie unghie fashion bellissime stupenda questa veramente bella questa costa questa 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 fantastico 12 euro e 25 io la provo intanto la provo wow bellissima esatto bella 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 proprio matt giusto? sì sì super matt quindi questa bella eh vai pritta no la prima volta stupenda mi trovo bene anche le alluminanti di De Palma ho i brush sono stupendi poi ah due rossetti di Milani facciamo vedere aspetta numero allora numero 26 nude cream eccolo qua che è un nude su rosa sì nude su rosa e numero 20 eccolo qua questi sono i miei colori io vado di scuro cioè non mi piacciono i colori naturali vado sul pesante brava e questi qua 5 euro e 21 ottimo quindi buono io li apro presi perché sinceramente ho aspettato io riprendessi l'ora perché se vado bene io li prendo sinceramente così ora mentre tu fai dei dei rifiutti io inizio da vedere questo che ci vuole un po' di tempo allora io allora a Giaia principalmente almeno quando l'ho scoperto questo sito volevo prendere prodotti della Makeup Revolution poi lei mi ha regalato una palette della Makeup Revolution che sto provando mi sto pensando vi faccio vedere in un altro video sempre di acquisti e magari anche di recensione quindi ho voluto prendere dei pennelli della Zoeva perché sono famosissimi molto acclamati recensioni fantastiche e così YouTube allora io sinceramente li ho voluti prendere e ne ho presi tre tutti e belli in questa foto e la vede fantastica le avevi fatto due occhi e uno viso allora viso ho voluto prendere il 226 smugger in questa bellissima fasce l'inglese è smugger perché io ho studiato se lo dico io da precisione da precisione infatti è questo qua piccola precisione che io uso tanto per delineare bene sulla palpebra questo qua 7,80 7,80 esatto quindi c'è anche io ce l'ho prende un'altra ma ci sono pendenti laggico che costano lo stesso prezzo non penso siano vari di come questo quindi preso e l'altro è invece da questo sfumatura da sfumatura no pennello piatto pennello piatto svasato il numero 227 questo è il dupe del 217 di un altro quindi è la sfumatura la sfumatura ok perfetto questo qua sono un'esperta di make up ricordate anche se non faccio video su youtube è abbassato sempre 7,80 e poi ho voluto prendere uno da al fondo intanto io ammiro i minerali sono stupendo minerale questo qua bello cicciotto con delle citture belle fitte fitte questo non l'ho immaginato più grande dalla foto invece e quindi ho voluto prendere questo bello e morbido sono morbidissimo bello questo qua è il numero 102 e questo 12,80 12,80 quindi io per 28,40 mi sono messo tre pennelli bellissimi favolosi che come sapete io ve ne paverò sempre in un video se saranno veramente quello che sono e niente e adesso vi faccio vedere le risposte della Milani fanno i veder un po' bello bello questo è il 20 Uptown Move Uptown Move wow non rende nella videocamera forse c'è una luce un po' troppo sparaflesciosa no ancora peggio chissà forse si eccolo qua è più scuro proprio un fucsia no più scuro sparaflesciosa prossima alba e l'altro invece è Mood Mood numero 26 Mood regola 26 questo qua aspetta ma lo apro un attimo wow bellissimo proprio color carne un pescato un pescachiaro tutto bellissimo molto commentato poi proveremo di far salire poi lei mi dice io poi ti dirò poi quando facciamo un altro ordine se sono buoni dipendo anche io ok perfetto ok ah tu fammi sapere dipendere comunque sono molto curiosa sono curiosita eventualmente quando faremo un altro ordine mi prenderò sicuramente sicuramente facciamo un altro ordine questo è poco ma sicuramente con lei io ti sono pissata su queste cose stiamo un po' ok spero che vi sia piaciuto questo video mettete mi piace commentate e noi ci vediamo alla prossima pollice in su anche per me grazie sì io poi vi lascio anche un'altra volta qui il link al suo canale se vi interessa le canta molto bene e niente ciao ragazze ciao ragazze